Il torchio per la pasta. Un accessorio che estrude la pasta consentendo di realizzare una varietà di formati. È corredato di 13 trafile in bronzo. L'uso del bronzo per la trafilatura è importante in quanto conferisce alla pasta una rugosità che trattiene il sugo. Si presta inoltre alla preparazione di pasta di forme differenti come maccheroni, spaghetti, fusilli eccetera e anche i biscotti.